Sono con Roberto Chieppa, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è appena intervenuto sul palco del Social Football Summit 2021 per parlare di un tema molto importante, calcio antitrassi, in particolar modo della Superlega. Innanzitutto benvenuto Presidente, le chiedo, quale sarà la posizione del Governo qualora si dovesse concretizzare il progetto Superlega? Il Governo ha già preso una posizione, che è stata quella di costituirsi nella causa davanti alla Corte di Giustizia contro questo progetto di Superlega. Lo ha fatto perché il Governo crede nei valori dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e crede che lo sport, che è anche business, ma non possa essere considerato solo business. Quindi il calcio, che è lo sport principale in Italia, sicuramente è un'impresa che genera grandi fatturati, ma lo fa perché le gesta di un calciatore o di una squadra non sono assimilabili a quelli di un artista o di un'orchestra, ma perché quel calciatore e quella squadra generano passioni. E dietro quelle passioni ci stanno i valori più alti dell'ordinamento sportivo. Questo progetto di Superlega, limitato a 12 squadre, con poca possibilità di accesso di altre squadre, quindi con una possibilità non aperta, chiusa, non solidaristica verso le altre squadre, è un progetto che contrasta con quei valori e per questo il Governo ha deciso di costituirsi contro quel progetto. Oltre quanto già fatto, come ha intenzione il Governo di aiutare la ripresa economica in questo settore? Beh, io penso che in tutti i settori, trasversalmente, saranno interessati dall'attuazione del Piano Nazionale di Riprese e Resilienze, il PNRR Next Generation EU. Quindi, oltre ad esserci specifici i progetti dedicati allo sport, io penso che i progetti trasversali, soprattutto quello dell'innovazione digitale e anche della transizione ecologica, dovrebbero portare a uno sport più sostenibile, alla costruzione di impianti sportivi, compresi gli stadi per il calcio, in modo più semplice, più veloce, con meno vincoli derivanti dalla burocrazia e magari uno stadio che sia 5.0, cioè che sia anche dal punto di vista dell'innovazione alla valguardia. Grazie mille, a Roberto Chieppa. Grazie mille, a tutti.